ciao a tutti e benvenuti su menti taro oggi parliamo di come attrarre amore nella nostra vita attraverso i cristalli ho già parlato in un video precedente di cui metterò il link qua sopra di cosa è una griglia di cristalli e di come questa possa migliorare aumentare la forza di attrazione della magia dei tarocchi bene anche in questo caso combineremo appunto la tecnologia esoterica della griglia dei cristalli con la magia dei tarocchi è questa una griglia di cristalli che può essere utilizzata per appunto attrarre amore nella nostra vita non necessariamente romantico può essere anche amore per noi stessi per migliorare la relazione all'interno della nostra famiglia del nostro gruppo di amici per migliorare la relazione con una persona in particolare però può essere utilizzata soprattutto per attrarre un nuovo amore nella nostra vita una nuova relazione soprattutto se appunto siamo single anche per migliorare la attuale relazione con il nostro partner ovviamente non non va utilizzata per come dire andare contro il libero arbitrio del partner per forzarlo o forzarla a provare dei sentimenti per voi però diciamo che sicuramente può migliorare qualsiasi tipo di energia all'interno della coppia soprattutto per eliminare magari delle energie stagnanti o anche proprio negative all'interno della coppia della relazione cosa serve per per questa griglia di cristalli sicuramente le pietre i cristalli abbastanza per formare un cuore queste pietre devono essere o rosa perché è il colore appunto che viene collegato appunto alla sfera dei sentimenti amorosa oppure verde perché è legato alla al quarto chakra quello del cuore e più consiglierei due cristalli di rocca che siano abbastanza simili per taglia e forma dunque io non ho tutti questi cristalli rosa e verdi per cui mostrerò la forma con altri tipi di cristalli però appunto voi tenete in considerazione che devono soprattutto cioè che devono essere o rosa o verdi io consiglio il cristallo rosa comunque e poi serve un fulare una sciarpa che va piegata a quadrato e che farà da base d'appoggio alla griglia questo fulare deve essere anche questo o rosa o verde e poi la carta che rappresenterà la vostra intenzione la carta dei tarocchi allora io consiglio una di queste tre o gli amanti o l'innamorato nel si chiama i tarocchi di marsiglia oppure l'asso di coppe soprattutto se si vuole un nuovo amore e il due di coppe se riguarda soprattutto una relazione specifica scegliete quella che volete quella che si adatta meglio al vostro caso dunque come procedere innanzitutto bisogna purificare i cristalli io consiglio di purificarli alla luce della luna o nuova o piena non è necessario che siano purificati di recente l'importante che non siano stati toccati da energie diverse dalle vostre nel frattempo questo procedimento lo consiglio comunque diciamo il rituale la griglia consiglio di farla durante la luna nuova appunto perché la energia della luna nuova ci aiuta ad attrarre cose nuove nella nella nostra vita dunque una volta che avete purificato i cristalli ponete il foulard come ho detto verde o rosa sul piano di appoggio dove volete lasciare poi la griglia di cristalli prendete la carta che avete scelto per esempio in questo caso io scelgo l'asso di coppe la ponete fra le vostre mani e enunciate la vostra intenzione può essere anche specifica nel tipo io nome cognome ho una nuova relazione appagante con una persona che è in linea con la mia personalità eccetera eccetera pensateci ovviamente bene prima su che tipo di intenzione volete volete utilizzare dopodiché vi focalizzate su questa intenzione entrate uno stato meditativo e cominciate a visualizzare la vostra vita nel momento in cui questa intenzione si diventa reale e quindi tutte le emozioni legate ad essa tutte le scene nel dettaglio quando sentite di aver terminato deve essere una cosa spontanea mettete la carta sul sul piano di lavoro sopra il foulard così dopodiché prendete le altre pietre se possibile tra le vostre mani altrimenti lasciate sul tavolo e vi appoggiate sopra le mani e fate lo stesso tipo di procedimento enunciate la vostra intenzione visualizzate la scena in uno stato meditativo per alcuni minuti una volta fatto questo costruite la vostra pietra di cristalli prima cosa prendete i due quarsi rosa simili fra loro e li ponete sopra la la carta questa rappresentano questi rappresentano voi e o il vostro partner o la persona con cui volete migliorare comunque la relazione un potenziale partner futuro eccetera se invece per esempio una griglia di cristalli che volete fare per aumentare l'amore per voi stessi basta che ne utilizzate uno di cristallo di rocca comunque adesso ne poniamo due e poi con le altre con le altre pietre potete iniziare a costruire il vostro cuore attorno alla carta è più facile se queste pietre sono piccole queste sono già un po un po grandi adesso esposto così si vede meglio e qui sono è un po più difficile mettiamola così però ci si dovrebbe riuscire mettiamo questo vedete c'è la forma di un cuore se avete difficoltà a disegnare il cuore potete comunque utilizzare una disegnarlo prima su un pezzo di carta e metterlo sotto tra il fular e le pietre la carta così da darvi un percorso per poter da seguire appunto durante la costruzione della della griglia per attivare la griglia di cristalli bisogna passare con il dito che sia della mano destra sinistra non importa su ciascuna pietra che fa parte della griglia iniziando dal centro ripassando sempre dal centro cosa vuol dire che iniziate dalle due pietre che stanno sopra la carta poi toccate una pietra del bordo ritornate alle due pietre sulla carta di nuovo sulla pietra del bordo e così facendo per ciascuna di delle pietre che stanno lungo il bordo della della griglia dopodiché quando avete finito rienunciate la vostra intenzione dopodiché ringraziate questo ringraziamento dipende dal vostro credo più intimo ovvero le forze dell'universo dio il creatore di tutto ciò che è dipende da da cosa da quello in cui credete comunque ringraziate queste forze che vi aiuteranno appunto ad attrarre amore nella vostra vita vi consiglio di lasciare la griglia sul piano che avete scelto per almeno un ciclo lunare ovvero fino alla successiva luna nuova dopodiché ringraziate di nuovo le forze dell'universo purificate carta e cristalli all'energia della luna e dimenticate un po il tutto perché non dovete focalizzarvi sulla vostra intenzione lasciate volete soltanto lasciare che le forze dell'universo lavorino per voi bene spero questo video vi sia stato utile se avete domande scrivete pure nei commenti se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like a scrivervi al caso non avete già fatto e soprattutto attiva la campanella in modo da non perdere i prossimi video e noi ci vediamo presto ciao